Il corpo come limite con gli altri. Con il corpo puoi abbracciare, baciare, stringere fraternamente una mano in segno di resa o in segno di pace. Puoi farti sentire presente e se vuoi puoi incoraggiare. Io, il mio corpo, l'avrei messo da parte volentieri, per librarmi in uno stato dell'essere che non fosse ancorato ai bisogni terreni. Grazie.